Dopo la proroga arrivata ieri sul tavolo del Ministero prendono in via l'Assemblea dei Lavoratori a Call Center 3G di Sulmona. I 91 rischiano il posto di lavoro dal momento che l'azienda ha aperto la seconda procedura dei licenziamenti. Tutto resta congelato fino all'11 luglio come concordato tra i vertici della 3G e sindacati. Le condizioni dell'azienda saranno sottoposte in queste ore all'attenzione dei lavoratori. Il tempo di organizzarci e di rivedere tutti i documenti e quasi sicuramente già da domani partiremo con l'Assemblea è affermato al termine della riunione al Ministero Antonietta Santa Venere della Fistel CISL. Sul tavolo ministeriale i sindacati Pelini e quelli molisani sono arrivati divisi. I primi portano avanti il verbale di mancato accordo, gli altri hanno subito accettato le condizioni della 3G. La decisione deve essere univoca, da qui la proroga fino all'11 luglio con la politica che non resta a guardare. A chiedere misure straordinarie per la Valle Pelini è stato il sindaco di Prato, l'Antonella Di Nino. I impegni istituzionali sono arrivati dalla senatrice PD Stefania Pezzopane mentre il deputato Gianni Melilla ha presentato un'interrogazione. Lunga riunione alla vigilia dell'incontro con il Ministero, fra il sindaco di Sumona Anna Maria Casini, l'assessore comunale al lavoro Paolo Santarelli, l'assessore regionale all'area interna Andrea Gerosolimo con i sindacati. Ora saranno decisive le assemblee con i lavoratori per prendere una posizione definitiva e salvare quanti più posti di lavoro possibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti